Non ho ancora deciso, ci sono pareri discordanti date quelle che sembrano delle lievi increspature alla lontana pronti a ballare? Forza! Questa è la cosiddetta rapida della morte in fatti che faccio? L'entriamo morta? vai 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 occhio, occhio all'acqua dai morta, morta mettiamo qua che vediamo gli altri sinistra dietro tutti avanti tutti avanti destra dietro destra dietro stop, tutti avanti e qui vediamo qualche bagno, vediamo come passano i sud vai 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 te ne stanchi? vai 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 Grazie.